Dalla redazione dei Il Dolomiti sono Marta Manzoni e questo è D'Acquassù, il podcast settimanale che parla di montagne e terre alte a 360 gradi. Bentornati a D'Acquassù, un podcast nato per offrire diverse prospettive sulla montagna, dando voce a chi la vive, la studia e la ama. L'ospite di oggi è Adele Zaini, laureata in fisica, appassionata di montagna, attivista per il clima e per le terre alte, sta per iniziare un dottorato in Ecological Climatology a Oslo. Adele, tra i giovani attivisti come te, e non solo, è sempre più diffusa l'ecoansia. Ci spieghi meglio che cos'è e se ti è mai capitato di viverla? Beh, intanto, ciao Marta e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Allora, per rispondere a questa domanda, intanto che cos'è l'ecoansia? È la paura che è generata dalla consapevolezza degli effetti e dei danni della crisi climatica, ovvero dal fatto che il nostro mondo, la nostra vita, non sarà più come quella attuale, ma diversa e peggiore sotto molti aspetti. È anche la consapevolezza, però, che non è solo un problema ambientale, ma prima di tutto un problema delle nostre società che impatta su di noi direttamente. E beh, diciamo che sì, mi è capitata di viverla. La prima volta è stata verso la fine del 2018, in cui ho letteralmente sentito tutto il mio mondo crollarmi addosso. Ho passato un po' di settimane in crisi e da quel momento continuo a provarla. Vado un po' a momenti, alcuni un po' più di down, in cui mi sorprendo a piangere, vedendo tutto ciò che ci è stato tolto, quanto tutto questo sia profondamente anche ingiusto, quanto avrei voluto poter sognare una vita come quella che hanno sognato i nostri genitori. La mia equanzia è nata leggendo dati e grafici. L'equanzia che si sta diffondendo adesso di molte persone si manifesta a seguito del vedere direttamente con i propri occhi e sulle proprie vite le conseguenze della crisi climatica. Però arrivo un po' al punto, perché tutta questa negatività forse non fa neanche tanto bene, perché infatti il rischio è che questo ci paralizzino, ma trovo che sia in realtà esattamente in questa profonda paura che trova origine la forza per mettere tutto in discussione, tutte le nostre vite, il nostro sistema, dove si trova anche la forza per reagire a queste drammatiche conseguenze della crisi climatica che stiamo provando in questi giorni. Perché è vero che da un lato vivremo su un pianeta che sarà diverso da quello che conosciamo e da qui si genera l'ansia, ma c'è ancora tantissimo che possiamo evitare e salvare. E quindi è esattamente in questo gigante margine d'azione che questa ansia si trasforma. Ma è un passaggio necessario, perché senza quest'ansia non usciremo mai dalla nostra comfort zone ed è invece necessario uscirne, perché è tardi, non c'è più tempo per compromessi e l'ansia si trasforma quindi in azione. Ed è esattamente ciò di cui oggi abbiamo bisogno in questo momento storico. Secondo il terzo rapporto ITAL Communication Census, il 34,7% degli italiani è convinto che ci sia un allarmismo eccessivo sul cambiamento climatico, mentre i negazionisti sono il 16,2%. Quali sono le cause di queste erronee convinzioni? Allora, qua secondo me c'è tantissimo di opinione personale, se posso appunto esprimere la mia, vabbè, di sicuro questi dati mostrano che è un vero problema nel nostro paese. Questo secondo me perché in Italia si concepisce ancora la crisi climatica come una questione di opinioni. Infatti nei talk show, che tra l'altro spesso di scarsa qualità delle discussioni in cui il presentatore o la presentatrice è già di parte, in questi talk show vengono invitati a discutere sullo stesso piano una persona che non ha alcuna competenza in materia e uno scienziato, una scienziata che invece ha dedicato l'intera propria vita allo studio di questi temi, no? E per fare un paragone, secondo me, è esattamente come se alla lezione di quinta elementare in cui si studia il sistema solare dal sussidiario partecipasse anche un terrapiattista, posta così assurda come situazione, no? Ed è quindi necessario che nel nostro paese avvenga un po' questo cambiamento di paradigma, ovvero che la crisi climatica non è una questione di opinioni, è la realtà e invece che sprecare tempo a metterla in dubbio si deve migrare la discussione su come gestire questa nuova realtà. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo appello alla politica ha detto In questo periodo l'Italia ha vissuto eventi terribili, legati palesemente alle conseguenze del cambiamento climatico. Tante discussioni sul livello dell'allarme che è giusto avere per la realtà che stiamo sperimentando appaiono sorprendenti. Occorre assumere la piena consapevolezza che siamo in ritardo. Bisogna agire incrementando l'impegno a salvaguardia dell'ambiente. A poche ore da questo suo intervento il governo Meloni ha comunicato un taglio di fondi per alcuni progetti del PNRR, tra i quali un miliardo e duecento milioni di euro del capitolo sul dissesto idrogeologico. Che segnale è a tuo avviso? Allora, questa discrepanza tra gli interventi mostra secondo me esattamente un problema dei nostri sistemi politici, ovvero le decisioni contingente presi dal governo in carica che si scontrano con i messaggi di una carica della Repubblica che ha lo scopo di garantire la sicurezza nazionale. Il problema di base è che i governi durano una manciata da anni e quindi mirano a prendere decisioni più sul breve termine con lo scopo dei singoli politici individui di farsi direggere poi al prossimo mandato. Quando invece le azioni che contrastano la crisi climatica riguardano gli investimenti per avere poi i vantaggi sul lungo termine. Questo fenomeno è diffuso ovunque, però secondo me è particolarmente accentuato nel nostro paese perché i governi sono talmente instabili che non hanno il solito periodo iniziale per prendere quelle decisioni un po' impopolari ma che investono sul futuro. I nostri partiti sono praticamente in perenne campagna elettorale. E dall'altro lato siamo in un momento storico italiano in cui le correnti populiste sono largamente diffuse e c'è una diretta correlazione secondo me tra decisioni populiste e danni sul domani. Un esempio passato è stato ad esempio i baby pensionati che sono andati in pensione anche prima dei 40 anni percependo anche più del triplo di ciò che avevano versato come contributi. E ora il sistema pensionistico arranca in un paese in forte decrescita demografica. Domani la mia generazione chissà se percepirà una pensione. Sta avvenendo lo stesso processo, ma qui è paradossale perché ciò che in Italia viene chiamato PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono fondi che tra l'altro in parte a fondo perduto, sono fondi europei chiamati Next Generation EU, fondi che hanno esattamente lo scopo di investire sul nostro futuro. Un altro punto importante è che questa decisione è stata presa da un governo di destra. In Italia le questioni ambientali, tra virgolette, sono sempre stati temi della sinistra, quando in altri paesi le tematiche climatiche sono trasversali ai partiti di ogni espressione politica. Questo perché in altri paesi si è arrivati alla consapevolezza che non sono ideologie politiche, non è solo un problema dell'ambiente, ma è un problema di tutti e di tutte noi. Ed è un problema reale, estremamente grave e urgente da gestire. I governi hanno la responsabilità e il dovere di garantire la sicurezza dei propri cittadini e cittadine. Però è indubbio che in Italia, come anche in altri paesi, esiste una crisi della politica in questi termini. Non esiste ancora una vera alternativa a livello nazionale, anche se a livello locale stanno nascendo diverse realtà di giovani che propongono una politica alternativa, come ad esempio quella di Brescia Attiva o del collettivo di fantapolitica. Ora ciò però che è imperativo per la politica è avere come priorità assoluta contrastare la crisi climatica, ascoltando la scienza e applicando le soluzioni che già esistono. Perché senza un futuro vivibile è inutile discutere di tutte le altre questioni. Che idea ti sei fatta sugli attivisti di ultima generazione che intraprendono azioni di disobbedienza civile non violenta contro il collasso ecoclimatico? Dal multimedia sono descritti come vandali che imbrattano beni culturali. Allora, domanda molto calda. Allora, per rispondere vorrei fare un attimino un passettino indietro. Allora, diciamo che Ultima Generazione nasce da Extinction Rebellion, che è un altro movimento di attivismo climatico e fa parte di un network mondiale che si chiama A22 e che in altri paesi prende altre forme, altri nomi, quindi altri messaggi, come ad esempio in Gran Bretagna, Just a Poil, quindi semplicemente fermate i combustibili, tradotto. Sono azioni che nascono da singoli che provano una profondissima ecoansia, quindi la paura di non avere un futuro, ma anche una profondissima impotenza e frustrazione di fronte alla totale nazione della politica. Perché infatti la questione è che già da metà dell'Ottocento si erano scoperti gli effetti sulla temperatura a media globale che un aumento di CO2 in atmosfera poteva provocare. Metà dell'Ottocento. Da quel momento scienziati e scienziati del clima hanno lavorato per determinare tutti i micro dettagli delle cause e delle soluzioni per contrastare questa crisi, mentre attiviste e attivisti hanno manifestato in modo democratico per esprimere l'esigenza di agire. Ma né questi migliori scienziati e scienziate nel mondo né questi movimenti sono mai stati presi in considerazione dai politici. E visto che questi movimenti, metodi democratici, non sono stati ascoltati, questi attivisti, appunto, diffusi anche in tutto il mondo, non è che ultima generazione, quindi localizzato solo in Italia, provano ad agire al di fuori del sistema, questo sistema corrotto che ci ha portato a questa crisi. Quindi facendo azioni che sono considerate estreme e contro la legge. E qui arrivo al punto perché c'è una differenza tra ciò che è legale e ciò che è legittimo, ciò che è giusto. E questo si vede dalla storia. Se oggi io e te e Marta possiamo votare è perché le suffragette in Inghilterra all'inizio del Novecento hanno fatto azioni di disobbedienza civile o il premio Nobel per la pace Martin Luther King e lo stesso Gandhi hanno lottato contro la legge con metodi di disobbedienza civile non violenta per vedere riconosciuti i diritti fondamentali. Oggi si agisce per poter garantire il diritto fondamentale alla vita, alla nostra vita sulla terra. E lo stesso Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, ha molto spesso incoraggiato questi movimenti con citazioni, vabbè lui è bravissimo nelle citazioni, questa è anche molto famosa, che dice molto spesso gli attivisti climatici sono rappresentati come dei danger radicals, quindi dei radicali pericolosi, ma i veri radicali pericolosi sono quelle nazioni che stanno ancora investendo nei combustibili fossili. Quindi quello che dice, e quello sostenuto anche dai movimenti, è che ad un'estrema inazione si risponde con azioni estreme. E comunque non pensate che ai loro tempi delle suffragette di Martin Luther King, di Gandhi, questi fossero considerati popolari, esattamente come oggi. Infatti lo scopo di queste persone non è farsi piacere, questo viene in secondo piano. Loro, anzi, sacrificano le loro vite all'interno del nostro sistema per combattere per questo diritto, ad un futuro vivibile per tutti e tutte, ma è per portare al centro della discussione dei mass media, dei politici, le criticità della crisi climatica. Se questo è il loro scopo, allora ci stanno riuscendo, perché ad esempio dopo l'azione del Senato, non mi ricordo qualcosa come 15-20 politici di destra hanno fatto tweet citando il cambiamento climatico, cosa che non era mai successa prima. Lo scopo quindi di questa azione è quello di scrollarci dalla nostra quotidianità e ricordarci che esiste un'emergenza che deve essere gestita e anche urgentemente. Quindi questo è, diciamo, loro stanno dalla parte giusta della storia. Ora però faccio un passettino oltre, perché personalmente devo anche dire che avendo preso parte al movimento norvegese Stop Oieletinga, quindi Stop l'esplorazione di nuovo petrolio, ho notato che ci sono, esistono delle differenze nel modo di comunicare dei diversi movimenti di questo network, ma soprattutto anche nel paese in cui si vogliono comunicare questi messaggi. E purtroppo in Italia entrambi questi fattori non sono molto favorevoli a far sì che questo movimento abbia così tanto effetto come altrove in altri paesi. I metodi etoni scelti da ultima generazione a volte possono infatti sembrare controproducenti, soprattutto nel nostro paese in cui la politica è spesso molto superficiale e populista e non si domanda il perché di certi avvenimenti. Però una cosa devo dirla, almeno loro ci provano, perché c'è un'emergenza globale, nessuno di chi ha potere sta facendo abbastanza, i metodi democratici non hanno funzionato e non c'è più tempo. C'è bisogno di una rivoluzione e loro almeno ci provano. Tu sei un'attivista per le montagne, quali sono le azioni più urgenti per proteggere l'ambiente, le terre alte e che tipo di attivismo serve in questo momento? Allora, intanto grazie per la domanda perché così portiamo un attimino le montagne al centro di nuovo di questo podcast di montagne. Le montagne sono senza dubbio degli ecosistemi che reagiscono molto rapidamente e intensamente ai cambiamenti climatici. Sono ecosistemi molto fragili, infatti basta pensare che i ghiacciai alpini negli ultimi 30 anni hanno perso più della metà della loro massa glaciale. e le problematiche legate alla montagna sono molto diversificate. Ce ne sono molte locali legate allo sfruttamento di suolo e allargamento di impianti di risalita e cimentificazione dei boschi ma anche non così locali perché infatti questi cambiamenti climatici hanno sì la loro espressione in montagna ma le cause non si trovano in montagna e neanche le conseguenze perché infatti i ghiacciai ad esempio sono una grandissima risorsa di acqua potabile o il punto di partenza per la generazione di elettricità idroelettrica e quindi se le cause non sono in montagna noi cos'è che possiamo fare? Allora sicuramente e così rispondo anche alla domanda che tipo di attivismo è più efficace io sicuramente non ho una risposta non sono nessuno per poterla dare però ci sono dei punti che vorrei assolutamente condividere che innanzitutto essere attivista che significa essere radicale o estremista ma essere attivista significa attivarsi e un'altra cosa che vorrei dire comunicare è che le azioni individuali sono sì importanti ma non sufficienti infatti ridurre il consumo di carne muoversi con i mezzi pubblici sono tutte azioni assolutamente necessarie ma solo il punto di partenza infatti cioè per dirvi nel 2024 la British Petroleum una delle sette sorelle dell'oil and gas ha inventato il carbon footprint cioè il calcolatore delle emissioni di CO2 personali proprio con lo scopo di distrarre dalle vere azioni impattanti ovvero quelle che andavano a ledere i suoi interessi e quindi quali sono queste azioni più impattanti? Allora sicuramente usare il nostro ruolo di elettori ed elettrici della classe politica quindi fare pressione che prendano decisioni in linea con gli obiettivi climatici ad esempio sostanziando gli attuali sussidi ai combustibili fossili sull'incentivare lo sviluppo delle rinnovabili e poi ovviamente votare come dicevamo prima partiti e politici con priorità la decarbonizzazione e l'adattamento e poi anche nel nostro ruolo di consumatori quindi chiediamoci sempre se abbiamo veramente bisogno di quel nuovo acquisto o se abbiamo provato a vedere prima se lo si trova usato su siti come Vinted Subito e così via e poi secondo me entrare nel paradigma come dicevamo prima che la nostra vita non può più essere come quella dei nostri genitori come ci hanno loro insegnato e quindi porci domande mettere in dubbio e pensare criticamente non dare nulla per scontato e non rispondere al come si è sempre fatto così e questo è collegato molto ad un'altra azione che è quella di informarsi perché c'è ancora come abbiamo visto dai dati del censimento sul negazionismo che c'è ancora tantissima disinformazione su questi temi che deve essere colmata e quindi le basi delle cause delle conseguenze delle soluzioni della crisi climatica dovrebbero essere parte della nostra cultura generale e quindi poi quindi informarsi ma informare anche gli altri quindi parlarne perché il problema è che deve essere nella nostra quotidianità avere la consapevolezza che c'è un problema e che deve essere gestito e che parte da noi quindi per riassumere i miei grandi consigli che potrei dare sono che bisogna mettersi in gioco uscire dalla comfort zone e mettere in atto in azione le proprie personali capacità perché serviamo tutti e tutte per portare avanti questo cambiamento e poi se qualcuno ha forme più efficaci di attivismo è assolutamente benvenuto benvenuta a proporle a metterle in gioco quali saranno le prossime azioni alle quali parteciperai? allora nel mio quotidiano sicuramente continuerò a parlarne tantissimo a mettermi in discussione uscendo appunto dalla mia comfort zone però per darvi due prossimi appuntamenti a cui parteciperò e da segnare assolutamente in agenda sono lo sciopero globale per il clima il 15 settembre ed è lì in piazza che scriviamo la storia e i primissimi giorni di settembre ci sarà un ragione in Valdossola gli stati generali del clima il cui scopo sarà creare rete tra la frammentazione di realtà attiviste in Italia quindi per redireggere un documento che porta avanti le demands le richieste per attuare la transizione quindi niente grazie a tutte le ascoltatrici a tutti gli ascoltatori per avermi ascoltata fino a questo punto grazie mille a te Adele dalla redazione del Dolomiti per oggi è tutto ringrazio le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguiti e Climbi Radio per il supporto tecnico seguiteci sui canali social e sul dolomiti.it per riascoltare le altre puntate l'appuntamento con D'Aqua Su è per la prossima settimana viva la montagna Grazie a tutti Grazie a tutti